Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook Basket Time Out, le interviste di Basket Time Out, nuovo appuntamento dopo Capobianco, Alberani, Boni, Pancotto e Gresta. Oggi abbiamo Gino Guastaferro, General Manager dello Scafati Basket 1969, che ringrazio e in vena di ringraziamenti ringraziamo anche Antonio Pollioso, addetto stampa della società, per la disponibilità. Buongiorno Giovanni e buongiorno a tutti. Con il direttore quest'oggi affrontiamo un po' di temi, come sempre di attualità, e inizierei immediatamente dalla post-Covid, che purtroppo ha dimostrato di essere una crisi sia economica quanto sanitaria. Perché da un lato c'è il governo che sta rivalutando un po' quello che è il credito d'imposta al 50% per le sponsorizzazioni, che sono una fonte vitale per le società di pallacanestro, avendo la pallacanestro un modello di business basato soprattutto sulle sponsorizzazioni. Dall'altra c'è poi l'emergenza sanitaria che riguarda soprattutto i giocatori stranieri che al loro ingresso dovrebbero mantenere i 14 giorni di quarantena, anche se la FIP vorrebbe un corridoio preferenziale con test sierologico nel caso in cui ci fosse la negatività mettere subito il giocatore, diciamo buttarlo subito in campo. Due emergenze appunto che come le state affrontando voi come scafati, ma in generale come crede il movimento la stia cercando di affrontare? Chiaramente i problemi sono un po' comuni a tutti. Partiamo dal fatto che viviamo ancora in un momento di indecisione, di incertezza, perché non abbiamo ancora ricevuto indicazioni ben precise per quanto riguarda i protocolli, anche se se ne è parlato, abbiamo quelli degli allenamenti, però cose assolutamente pratiche mancano, anche le date di inizio sono indicative perché chiaramente ci può stare sempre una decisione governativa che può cambiare qualcosa. Questa pandemia l'abbiamo vissuta da un punto di vista chiaramente sportivo in maniera drammatica, perché innanzitutto ha prodotto l'interruzione dei campionati, quindi l'annullamento e tutto il lavoro fatto che si stava facendo chiaramente da un giorno all'altro, più o meno, si è concluso. Quindi sportivamente parlando è stata già una devastazione. Da un punto di vista economico alla fine ha lasciato veramente dei forti segni negativi. Già se guardiamo nell'ambito della Vallacanestro, situazioni come quelle di Cremuna, Pistoia, Roma e qualcun'altra sicuramente. Sì, scendendo a cascata Imola, Grigento, Roseto. Imola, Grigento, Roseto, perché chiaramente come dicevi giustamente tu prima, una delle fonti di risorse con cui lo sport vive, specialmente uno sport diverso dal calcio, che chiaramente fa conoscito un po' tutto, sono anche le sponsorizzazioni, le quali chiaramente hanno subito una grossa frenata perché in questo momento di incertizia e di non guadagno fondamentalmente da parte degli imprenditori o di chi detiene un'azienda, la cosa è veramente molto difficile. C'era questa speranza che il governo potesse accettare già da subito questo discorso degli aiuti per quanto riguarda le sponsorizzazioni sportive, che però purtroppo in una prima fase è stata bocciata, questa proposta del credito d'imposta che avrebbe dato un po' di ossigeno sicuramente in più ai club, quindi si sta cercando di recuperare questo discorso partendo già da un dato negativo che è stato quello della prima bocciatura. Adesso confidiamo nella presa di coscienza, perché di questa poi alla fine si tratta, se si vuole mantenere questo mondo e far sì che venga sostenuto, perché poi non ci dimentichiamo che dietro alla partita, quindi ai giocatori e a quant'altro, esiste pure tutto un altro mondo che è fatto da addetti ai lavori, quindi dirigenti, impianti, custodi e quindi poi anche tutto l'indotto, quindi le aziende produttrici di abbigliamento sportivo, quant'altro, insomma veramente alla fine l'indotto è grosso. Quindi attendiamo con fiducia, spero, che il governo prenda atto di queste difficoltà e approvi almeno questo punto che sarebbe veramente una grossa mano. Come parlavo settimana scorsa con Coach Gresta, lo sport deve essere aiutato quanto appunto il turismo, i teatri, i cinema, perché appunto è un indotto economico e fa pill. Deve essere aiutato in tutti gli ambiti che all'interno del proprio indotto producono poi anche posti di lavoro, risorse per le persone e quant'altro, voglio dire, senza discriminare nulla. Non è che poi se si aiuta il turismo si deve aiutare anche lo sport o l'industria o il commercio. Siamo in una situazione veramente particolare e quindi molte persone, così come in altri ambiti, anche nello sport, vivono e contribuiscono al benessere delle proprie famiglie attraverso questo tipo di lavoro. Quindi senza dare più o meno importanza. L'importanza è la stessa per tutti. Tutti coloro che da una professione, da un lavoro, ricavano risorse per portare avanti le proprie famiglie e quindi lavorare poi al finale. Passiamo dalle sponsorizzazioni a quella che è la seconda fonte sostanzialmente per una società di pallacanestro che è il botteghino. In vista dei campionati 2020-2021 ancora non si sa più o meno quando si inizia, soprattutto come si inizia, se a porte aperte, a porte semiaperte, a porte chiuse. Da questo punto di vista la maggiore difficoltà ce l'ha la Serie A, mentre invece la LNP, la Lega Nazionale Pallacanestro, ha trovato il piano B, nel senso che o si parte il 14 ottobre con il campionato o se si parte a porte semiaperte o comunque a porte aperte il 15 novembre. Questo ovviamente permette di avere un'altra boccata d'ossigeno, se così vogliamo dire, perché poi sostanzialmente c'è, oltretutto con il calcio che sta cercando di finire la stagione appunto a porte aperte o comunque con un 40% di posti degli stadi occupati, anche se poi c'è il problema che il calcio gioca negli stadi all'aperto, mentre invece la pallacanestro e impianti al chiuso. Però ovviamente il pubblico è fondamentale da questo punto di vista, anche soltanto per l'atmosfera. Sì, assolutamente sì, ma partiamo dal presupposto che in questo periodo, in anni passati, erano partite le campagne abbonamenti, per cui iniziavano ad entrare delle risorse che venivano già utilizzate in questa fase per organizzare l'inizio, la partenza della stagione, cosa che in questo momento è assolutamente mancante sotto tutti i punti di vista. Noi come LNP un punto fermo lo stiamo mantenendo per quanto riguarda le porte aperte, perché una riduzione del 40% degli spettatori del calcio, che ha anche tantissimi altri introiti, è un conto. Un 40% di riduzione in un calazzetto diventa veramente vitale, e quindi noi stiamo facendo di tutto per iniziare il campionato, almeno perché per la Supercoppa si potrebbe anche fare a polpidusa, anche se quello negli anni scorsi è stato anche un piccolo momento di introito, diciamo così, quantomeno per compensare le spese sostenute per la Supercoppa. Noi giocando la Supercoppa sosteneremo delle spese che non verranno neanche compensate dagli incassi delle partite di Supercoppa. Quindi il campionato almeno è giocato a porto aperto o con un minimo di riduzione delle capienze. È chiaro che noi a Scafati viviamo questa cosa con grande apprezzione, ma fino a un certo punto, perché poi le risorse maggiori da noi arrivano dalla passione, dalla bontà del padrone Nello Longobardi, è affiancato dalla Givova e da Alessandro Rossano e quindi diciamo sì che compongono più altre serie di sponsor che compongono il grosso. È chiaro che ovviamente in un discorso di stringere un po' la cinta è chiaro che qualsiasi tipo di perdita, anche quella legata agli abbonamenti, agli incassi delle partite, rappresenta un problema per quanto riguarda la tenuta poi durante tutto l'anno, perché è vero che possiamo anche partire poi le date che si sono in qualche modo accennate sono o il 18 di ottobre o il 25 di ottobre, ma si punta al 18, o appunto se il governo non dovesse autorizzare le porte aperte o la capienza ridotta al 15 novembre, che chiaramente comporterà tutta un'altra serie di grossissimi problemi. Certo è che la LNP comincerà con i palazzetti quantomeno semi aperti. Come inizierà? Girone Est, Ovest, Girone Nord, Sud? Avete delle nuove direttive da questo punto di vista perché ancora non si capisce bene. Diciamo così che al di là dei nomi Nord, Sud, Est, Ovest, Bianco, Giallo, Verde, Rosso, la cosa che si sta tentando di fare è quello là di comporre dei gironi che vista appunto la grossa e grave crisi economica che stiamo vivendo possa condurre a non risparmio quando meno da un punto di vista di trasferte che vi posso garantire sono notevoli, per cui un'eventuale composizione dei girone al di là di come verranno poi identificati sarà proiettato a cercare di guardare più diciamo così la vicinanza dei vari club piuttosto che la suddivisione geografica. Questo perché dovrebbe a noi in Campania probabilmente insomma questa cosa ci renderà un po' più contenti perché con Napoli e Caserta ci saranno dei bei derby però al di là di tutto si punterà a far sì che quantomeno non sia un bagno di sangue anche spostarsi per le trasferte e quant'altro. Accennato appunto ai derby quest'anno sembra un duello tutto scafato in Napoli per quanto riguarda la promozione. Voi avete fatto un mercato che nonostante le difficoltà economiche accennava appunto alla grande passione del padrone Longobardi non avete badato a spese avete preso Charles Thomas Luigi Sergio Tommaso Marino praticamente quasi metà Rallenna che l'anno scorso era prima in classifica Napoli dall'altro lato sembrava quasi rispondervi rincorrervi in un certo senso questo sarà bello per il basket del sud. Penso di sì i derby di norma sono già affascinanti di sé quando poi vengono giocate gare con team molto competitivi è chiaro che si alza sicuramente il livello e sarà sicuramente uno spettacolo giocarle e vedere queste partite. Sì c'è stato un po' diciamo così qualche scaramuccia tra noi e Napoli per quanto riguarda qualche giocatore però diciamo così che noi abbiamo seguito più la filosofia che per fare una squadra competitiva si doveva partire innanzitutto dal carattere e dalla voglia dei giocatori quindi il fatto di aver preso giocatori di Ravenna è perché chiaramente questi tipi di giocatori hanno nel proprio DNA proprio un livello di competitività molto elevata però guardiamo anche Musso il giovane Sabatino è chiaro che poi ha un roster di italiani si è fatto con Valerio Gucci benvenuti è chiaro che dovevamo affiancare anche degli stranieri di livello e sempre grazie alla bontà del padron credo che sono stati fatti due colpi notevoli con Charles Thomas e sicuramente un pallino del padron che voleva in quel ruolo un giocatore di grandissima esperienza e di come dire capacità a livello cestistico molto alto si è andato su Randy Cooper speriamo a questo punto che ovviamente l'imbocca al lupo per la stagione a Scafati ma speriamo soprattutto che ritorni in auge il basket del sud visto che al momento purtroppo c'è la sola Brindisi a tenere alta la bandiera del sud visto che purtroppo è finita l'avventura anche di Avellino che sta pian piano ripartendo con il direttore Alberani sottolineavamo proprio quello nel senso che al sud c'è grande passione purtroppo però mancano le piazze almeno le piazze storiche come Reggio Calabria e soprattutto le siciliane poi che negli anni si sono sempre succedute in massima serie certo Orlando Trapani comunque tutti i posti di grande tradizione cestistica diciamo che il sud attualmente è un po' come dire vacante dalle dalle alte sfere e insomma in qualche modo è chiaro che il piacere sarebbe quello là di rinvigorire di nuovo questa truppa di società e di club nella massima serie del sud ovviamente per il momento facciamo i complimenti a Brindisi appunto che sta tenendo alta questa rappresentanza del sud facendo anche delle ottime stagioni con Frank Vitucci alla guida e con tanti giocatori che si stanno mettendo in mostra ultima battuta con lei direttore sulla proposta dell'abolizione del vincolo sportivo del testo unico dello sport presentato appunto dal ministro Spadafora quali conseguenze secondo lei possono esserci perché questa sarebbe una piccola rivoluzione per quanto riguarda soprattutto il modello sportivo giovanile sì questo sì sicuramente una rivoluzione quello che succederà sarà solo il tempo a dirlo perché le riforme tra virgolette sono tutte nate da buonissime intenzioni poi invece nella pratica si sono dimostrate spesso e volentieri non rispondenti a quello che erano le iniziali come dire pretese da un punto di vista normativo è chiaro che un discorso in questa direzione potrebbe portare effettivamente un vantaggio perché quantomeno rispetto a quello che è stato fatto parlo chiaramente più nell'ambito cestistico è stato fatto in passato che doveva essere e portare da sprona i settori giovanili all'attività giovanile quindi alla creazione di atleti che poi dovevano andare nelle massime serie in realtà non tanto si è verificato e il tutto si è tramutato poi in un carico ulteriore da un punto di vista fiscale di tassazione vedi NAS che chiaramente hanno diciamo così appesantito molto il carico di risorse dei club e non tanto questa tramutare queste risorse e indirizzarla verso i settori giovanili hanno prodotto gli stessi vantaggi che da un punto di vista economico sono state profuse cioè nel senso che oggi tesserare un atleta senior in A2 ci vogliono 9.000 euro in serie A 12.000 che sono soldi che in buona parte tranne gli svincolati per cui è la federazione che ne ricava vantaggio tornano alle società ma poi tornano ma non vengono investiti poi nel modo giusto quindi si guarda questa nuova riforma con ovviamente con ottimismo però aspettiamo di vedere quali saranno poi le ricadute Perfetto grazie quindi al direttore Gino Costaferro per questi 15-20 minuti di bella chiacchierata abbiamo toccato un po' di temi di attualità grazie ovviamente a Scafati per la disponibilità per chi la volesse rivedere la pagina Facebook Basket Time Out il canale YouTube Giovanni Bocciero per oggi è tutto grazie ancora a Guastaferro e grazie a chi ci ha seguito grazie a tutti e buon divertimento speriamo grazie a tutti